Carlo Calenda al forum Mambrosetti. Una farsa, fa campagna elettorale da Cernobbio sfruttando draghi. Augusto Minzolini, ospite di Tiziana Panella Tagadà sulla 7, picchia duro sul leader di azione e frontrunner del terzo polo. Questa campagna elettorale è paradossale. Giuseppe Conte presenta il Movimento 5 Stelle come rivoluzionario ma è stato al governo negli ultimi 5 anni. Lo stesso vale per Calenda, interpreta la posizione liberale sono contento, ma è stato eletto il Parlamento europeo con il PD che è radicalizzato dall'altra parte, e ancora una settimana prima di presentare le liste stava ancora tentando di fare un accordo con il PD. Certe cose o avvengono su principi chiari, definiti e precisi insiste ancora Minzolini oppure molto spesso nascono solo da posizioni di comodo della geografia politica, quello è uno spazio libero e mi ci infilo. I risponde dopo pochi secondo Matteo Renzi, leader di Italia viva e alleato di Calenda, capisco che Minzolini dal suo osservatorio politico debba giustamente fare polemica politica con Calenda ma Luisa meglio di me, e infatti sorride che la scommessa mia e di Calenda andrà molto bene e temo che farà un po' male a forza Italia. Eccola la, esulta quasi la panella, immaginando scintille tra l'ex premier e il direttore del giornale. Subito dopo la pubblicità, però. Subito dopo la pubblicità, però.